Buonasera a tutti e benvenuti a incontri d'estate 2020, programma organizzato da Ok Italia Parliamone e da un'idea nata insieme ad Asso Camerestero, l'associazione delle camere di commercio italiane nel mondo. Perché l'evento che abbiamo organizzato, perché eventi d'estate 2020? Perché riteniamo che ognuno debba cercare di fare qualcosa per aiutare le imprese del nostro territorio a superare questo momento di crisi legata alla pandemia Covid-19. Oggi quindi cercheremo con i nostri ospiti di fare un po' di chiarezza, di poter contribuire, anche noi di Ok Italia Parliamone, a fare questo tipo di chiarezza. Mi affiancherà oggi nella conduzione Roberta Caragnano, esperta gius lavorista ed esperta anche del settore della nautica. Grazie Roberta di essere qui al mio fianco per questo appuntamento con degli amici, questo salotto nel quale noi cercheremo appunto di fare chiarezza e siamo oggi ospiti di una struttura molto bella che è il Riva Marina Resort che ci ha ospitato per poter registrare la nostra trasmissione. Il tema di oggi è portualità e turismo, un tema assolutamente importante di cui discuteremo con i nostri ospiti che adesso vado a presentarvi. Ne parliamo con Ugo Patroni Gritti che è il presidente dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico Meridionale, buonasera Patroni Gritti, ne parliamo con Cesare De Palma, il presidente del distretto della meccanica di Puglia, buonasera De Palma, buonasera a voi. Ne parliamo con Anna Rita Montanaro, presidente di Concommercio Brindisi, buonasera Montanaro. Grazie. E abbiamo ancora ospite con noi Giovanni Canu, il comandante della Capitaneria di Porto di Brindisi. Buonasera Canu. Buonasera. Bene, se vediamo gli ultimi dati che sono stati resi pubblici dall'Enit nazionale italiano del turismo, dall'Enit sul turismo appunto, questi dati dimostrano che l'Italia per fortuna non si lascia abbattere dal Covid-19 e anzi con il turismo reagisce molto meglio di altri paesi. Il settore infatti nonostante tutte le difficoltà che sono sotto gli occhi di tutti sta godendo di un periodo anche possiamo dire florido e di tenuta, soprattutto in alcune località. Ricordiamoci poi la posizione strategica del nostro paese. L'Italia è bagnata, ecco qui abbiamo il comandante della Capitaneria Canu, è bagnata da ben oltre 8 mila chilometri di coste e questo dimostra che il sistema mare per l'Italia è allo stesso tempo una sfida, una grande risorsa e allo stesso tempo un'opportunità da poter sfruttare, anzi più che poter, da dover sfruttare e bene. I porti lo sappiamo rappresentano la via di accesso alle città e una via d'accesso per il mare e al turismo, è importante quanto arriva tanto con le navi da crociera quanto anche con i vari mezzi della nautica da di porto e sono importanti anche i porti per la competitività e la ripresa economica del paese. Serve però un sistema mare che funzioni. Roberta qual è la condizione dei porti oggi in Italia? La logistica, i trasporti, i porti funzionano realmente o si dovrebbe fare qualcosa. Per avere un sistema mare efficiente bisognerebbe investire probabilmente o comunque lavorare molto più in rete e sicuramente cercare di evitare tante situazioni di isolamenti dei porti ma soprattutto quindi lavorare in maniera integrata, quindi mettere in rete i porti con tutto il sistema del trasporto. Quindi l'Italia non può più permettersi oggi, ma già doveva farlo qualche anno fa di non avere un sistema quindi integrato. Sicuramente un elemento importante è rappresentato dalla valorizzazione, quindi dei trasporti, delle merci e delle persone che viaggiano necessariamente attraverso una valorizzazione del turismo e quindi valorizzazione della nautica, valorizzazione anche delle risorse italiane, sistema paese delle eccellenze. In realtà ne parlavamo anche prima nella nostra quindi chiacchierata, tante eccellenze italiane e quindi eccellenze che vanno dal settore del commercio, economia del mare ma anche del turismo che poi sarà il tema centrale della trasmissione di oggi. Molto bene, grazie Roberta. Noi partiamo allora proprio dal presidente dell'autorità portuale del mare adriatico meridionale, Ugo Patroni Gritti. Patroni Gritti, che ruolo possono avere realmente i porti? La Roberta Graniano diceva appunto dell'importanza del traffico merci e del traffico anche passeggeri. Che ruolo possono avere le autorità portuali ma i porti in generale per il rilancio e lo sviluppo del turismo e quindi dell'economia in generale delle città che li ospitano. Beh l'economia del turismo è una parte dell'economia portuale, i porti fanno parte delle infrastrutture logistiche, delle infrastrutture di trasporto. Noi sappiamo che ogni euro che noi spendiamo nelle infrastrutture genera un plus valore di 2 euro e mezzo, quindi è sicuramente il migliore investimento che il paese possa fare quello di investire nelle sue infrastrutture perché genera ricchezza. Questa ricchezza si traduce normalmente in posti di lavoro, occupazione sana, durevole, buona, occasioni per tanti giovani, per tante giovani donne che oggi non hanno possibilità di trovare lavoro, non lo cercano più perché non c'è. E quindi sicuramente l'investimento in logistica per il meridione è l'investimento più importante che ci sia, lo sanno tutti, lo sa il governo, lo sanno a livello dell'Unione europea e fa parte di, anche nel recovery fund, le risorse devono essere destinate prioritariamente ad infrastrutture. Nei porti il rapporto porto-infrastruttura è un rapporto simbiotico, cioè il porto è l'infrastruttura, il porto è efficiente se ha un'infrastruttura efficiente, il porto non è efficiente se è carente di infrastrutture. Questo vale per tutti i settori dell'economia portuale, dalle merci fino ovviamente al di porto. Non è solo un'infrastruttura fisica, è anche oggi un'infrastruttura immateriale. Per esempio, io sono molto orgoglioso di aver chiuso e presentare al Ministro a settembre l'integrazione dei due sistemi, del nostro PCS e del sistema AIDA, che è il sistema informatico delle dogane, perché permette attraverso l'Internet of Things di automatizzare tutta una serie di processi e se ne accorge anche il cittadino, perché significa che tutta una serie di processi di sdoganamento delle merci avvengono in maniera automatica senza la necessità dell'intermediazione umana e quindi il traffico fluisce, senza creare ovviamente degli... Presidente, ti interrompo un attimo. Che tipo di rapporto c'è con le città che ospitano di porti, ma normalmente il rapporto è sempre ottimo. Io ho 5 porti che gestisco, ho altri due porti che fanno parte della mia ZES, Molfetta e Termoni, i rapporti con le città, con gli enti territoriali e normalmente, dico normalmente perché poi ovviamente molti di voi sanno delle difficoltà che io stesso ho avuto in alcuni casi, eccellente. Perché non potrebbe essere diversamente, perché l'interesse del porto coincide con l'interesse della città. Se il porto cresce, crescono, c'è anche l'economia della città, c'è tutta un'economia che non è solo quella delle merci, ma anche una microeconomia, pensate alla microeconomia delle crociere che alimenta e che poi alimenta una filiera del turismo, perché il crocerista è come un turista che fa zapping, quindi se gli piace ciò che vede fugacemente nello scalo, poi normalmente ritorna, diventa anche ambasciatore del territorio. Quindi il rapporto con i comuni, devo dire la verità, indipendentemente anche dall'orientamento politico delle amministrazioni, stiamo parlando sempre di rapporti istituzionali, è normalmente buono. Io ho rapporti a Barletta, a Monopoli, Bari, Bari è un po' ovvio perché è la mia città, ma anche Manfredonia che sono, devo dire, eccellenti. Ma vorrei dire che anche a Brindisi, dove riesco a parlare la stessa lingua, cioè il problema è che molte volte quei giornalisti amplificano i conflitti. Infatti Presidente, la mia era un po' una domanda provocatoria, ma io voglio anche rispondere, perché penso che in realtà i problemi qualche volta sono di cosiddetti problemi di assimmetria informativa. Cioè io parlo un linguaggio, è un bagaglio di cognizioni e quindi riesco a comunicare molto facilmente con quelli che parlano il mio stesso linguaggio, con il comandante Cano, non dico mistero, cioè io, anche un rapporto di amicizia, di stima, e la visione del porto di Brindisi è una visione corale, è una visione veramente che noi condividiamo fin dal primo momento, ma dico di più, il Brindisi è rappresentata nel comitato di gestione dall'ingegner Lonoce, che io stimo enormemente, cioè un grandissimo professionista affermato a livello internazionale, e con Lonoce condividiamo la stessa visione di porto. Quindi credo che il problema principale sia quello proprio di asimmetria di informazioni. Ho difficoltà, ovviamente, può capitare nel discorrere di alcune cose, probabilmente, molte volte è sicuramente colpa mia, cioè io faccio ammenda, io sono un docente e quindi presuppongo che gli altri abbiano, è un peccato di superbi, non so se si va all'inferno, forse non più, una volta si poteva anche, penso che gli altri abbiano le stesse mie informazioni e quindi posso dialogare. Mi accorgo qualche volta che questo non è, mi dispiace, perché c'è un interesse comune che va tutelato. Ecco, prima il Presidente Padroni Grifti parlava dell'importanza del porto per tutto il sistema dell'economia, in particolare spesso sentiamo parlare di un'economia, la cosiddetta Blue Economy, una economia che ha subito veramente dei gravi danni da questo momento di lockdown e dalla pandemia Covid-19. Su che cifre ci aggiriamo, Roberta? Allora, le proiezioni sono dai 120 ai 125 miliardi, proprio perché il Covid è un vero e proprio contagio economico, io lo definisco solitamente così, poi ne parliamo, scriviamo, in realtà ha avuto un effetto domino per cui tutto è stato quindi travolto. Molto bello quello che diceva il Presidente, è una visione corale, il porto e le città sono una visione corale e in realtà quando parliamo di economia del mare o di Blue Economy parliamo in realtà di tutto, parliamo del turismo, delle risorse quindi naturali, dell'artigianato, ha puntualizzato tantissimo anche l'aspetto delle filiere e quindi questo è un elemento fondamentale. Sicuramente l'impatto che noi avremo e che dovremo sicuramente difendere come anche sistema qui in Italia, perché lo dicevi prima tu, noi abbiamo circa 8 mila chilometri di costa, la Puglia ne ha 800, quindi siamo una regione che vive sul mare e vive di mare. Dobbiamo cercare di integrare e quindi sicuramente trovare anche magari delle soluzioni innovative o delle soluzioni che ci consentono di ragionare in maniera sistemica, perché è tutto una questione di sistema. Ecco, quando parliamo di soluzioni innovative mi viene naturale fare una domanda adesso a Cesare Di Palma. Cesare tu sei uno dei promotori del tavolo navale Meditec, che cosa avete voluto fare? Avete dato vita ad una vera e propria filiera del settore che punta a fare proprio dell'innovazione la propria bandiera, questo è quello che avete voluto fare. Ti chiedo, può questo tavolo realmente aiutare la Blue Economy a recuperare il tempo perduto? Ma non può, lo deve, ce lo siamo posti come obiettivo, anche perché il Meditec è all'interno di un panorama dove si intende sostenere le piccole e medie imprese, è il tessuto di filiera del nostro territorio più incline a avvicinarsi al sistema della Blue Economy è proprio quello delle piccole e medie imprese, non certo quello delle grandi. In Puglia in passato abbiamo avuto le grandi imprese, soprattutto su Taranto, ricordo Belleli, che avevano diciamo una propensione verso la Blue Economy, un meccanismo di Blue Economy, le piattaforme e tutto il resto. Oggi il meccanismo è differente, le piccole e medie imprese possono fare la differenza sulla Blue Economy perché la Blue Economy ha bisogno di customizzazione di soluzioni. Anche la nave da crociera oggi, quando esce dal cantiere, ha bisogno di customizzazione di soluzioni, non ha bisogno della fincantieri che arriva in mezzo a mare e gli risolve un problema, ha bisogno della piccola e media impresa che nel giro di pochissime ore le consente di rimettere in moto qualsiasi cosa. Quindi la Blue Economy è incline alle piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese quindi possono fare la differenza sulla Blue Economy e il Meditec intende organizzare, censire tutto quel sistema delle piccole e medie imprese che può dare delle risposte interessanti. Si stanno analizzando progetti per quello che riguarda le propulsioni innovative, si stanno analizzando progetti per quello che riguarda i meccanismi di manutenzione predittiva anche da remoto, quindi magari tecnici qui su Bari che possono attraverso la realtà virtuale provare a assistere i tecnici di bordo, ad assistere anche il diportista che si trova in mezza mare con un problema al motore. Quindi si stanno pensando diverse situazioni che vengono un po' da quella che è l'industria metalmeccanica moderna, quindi non ci vuole niente a riportare l'innovazione che oggi si mastica nell'industria manifatturiera all'interno della Blue Economy per quello che riguarda appunto determinate attività. Ma come viene colta dagli imprenditori del settore questa voglia e volontà di fare innovazione? Viene colta abbastanza bene, siamo ancora in una fase dove dobbiamo andarli a prendere uno ad uno. Quindi bisogna convincerli dell'importanza di innovare? Bisogna fargliela, spiegargliela, una volta che gliel'hai spiegata la capiscono al volo. Quindi ecco la parola d'ordine è innovare per competere? Innovare per competere, innovare per crescere anche, questa mi piace di più. Uno dei settori che... Massimo, ti interrompo un attimo per una piccola domanda se mi permetti. Tante idee all'innovazione, sia per Cesare De Palma che per il Presidente. Che ruolo potrebbe avere un cluster marittimo o un cluster nautico o navale per il territorio, non solo per la Puglia ma per tutto il meridione? Siamo al centro del Mediterraneo, è fondamentale oppure no? Possiamo raccogliere i vari stakeholder, metterli insieme? Beh, diciamo che un cluster esiste, si potrebbe organizzare ulteriormente meglio. Noi abbiamo anche il distretto della Nautica, oltre quello per l'Istituto da Cesare. Quindi il cluster esiste, esiste anche una certa vivacità in alcune, diciamo, economie ancillari. Penso alla cantieristica, per esempio a Brindisi è un'eccellenza, e sicuramente può crescere ulteriormente. C'è tutto il tema dell'innovazione, per esempio il sistema di monitoraggio che noi abbiamo ambientale, che è un'impresa di Treviso, che in base a questo sistema si è quotata in borsa, è stato realizzato da ingegneri giovani, ragazzi di Lecce. Quindi i Trevisiani sono arrivati qua, hanno trovato anche un finanziamento regionale, hanno sviluppato un sistema basato sull'Internet of Things, molto innovativo, ha permesso a questa società di quotarsi e di vendere loro cose, però l'intelligenza, nel senso della conoscenza, nella conoscenza nostra. Io nei progetti che ho, in cui abbiamo parlato anche con Confindustria, con Ance, è quella di insediare le infrastrutture culturali nel porto. Cioè a Bari, sul progetto del Pizzoli, che è l'ultimo pezzo che mi manca di programmazione del porto, di creare un direzionale che ospiti un Innovation Hub, come avviene in tanti porti all'estero. Dove c'è un porto c'è un Innovation Hub. A Brindisi, con il comandante Canone, devo dire, con il compianto Malcarne, che è una persona di grande visione, diciamo... Lo ricordiamo tutti con grande affetto. Lo ricordo veramente, ci tengo a manifestare l'affetto e anche la stima che vedeva oltre. Ci eravamo attivati per attirare a Brindisi una università. E credo che questo progetto, abbiamo l'obbligo di portarlo avanti. E anticipo che ovviamente, siccome mi dice il professor Fimanò, che questo progetto avrà successo, un'aula io la dedicherò sicuramente ad Alfredo, perché lo merita sostanzialmente. Molto bene. Un altro dei settori, però, Roberta, che sta subendo moltissimi problemi, di cui dopo ne parleremo proprio con Anna Vinta Montanaro, è proprio il settore del commercio, perché sappiamo che se noi giriamo per le città, non soltanto le città di mare, ma anche e soprattutto le città d'arte, io vengo da Roma, Roma veramente è un deserto oramai, si vedono tantissime serracinesche chiuse, negozi che anche dopo la possibilità di riaprire, con le nuove regole ovviamente si sono trovate in difficoltà e non riescono più a reggere neanche i costi di gestione. Qual è la situazione del commercio, Roberta? Ci puoi dare qualche dato? Il commercio è sicuramente uno dei settori più penalizzati, anche perché nella fase iniziale noi ci siamo tutti chiusi in casa, quindi siamo stati tutti al chiuso. Sappiamo soltanto che la logistica ha avuto dei dati che sono cresciuti, anche se poi anche lì presi un po' con le pinze, perché comunque abbiamo avuto situazioni anche un po' particolari. Sicuramente è una filiera che non si è interrotta come le altre. Nel commercio la riapertura quindi è stata significativa, penso ha impattato in maniera significativa sui vari settori, ma in particolare anche la riapertura, perché riaprire con delle misure di sicurezza, col distanziamento sicuramente ha impattato e di fatto noi ce ne rendiamo conto, perché anche quando andiamo a fare la spesa ci rendiamo conto delle varie difficoltà o comunque di un sistema che sicuramente quindi è cambiato. Diciamo che forse c'è stata anche la diffidenza e la paura delle persone che nonostante potessero di nuovo andare tranquillamente in giro per negozi, ovviamente subentra anche un effetto paura, perché siamo tempestati continuamente anche da mass media di notizie ovviamente allarmanti. Di ieri la notizia che abbiamo raggiunto di nuovo il picco dei contagiati, che è pari all'11 maggio, quindi a pochi giorni prima del termine del lockdown, se non ricordo male sono 842, 846 erano i nuovi contagiati nella giornata di ieri, quindi è chiaro che si crea un allarmismo perché la gente ha paura ovviamente di dover essere costretta di nuovo a tornare a chiudersi nelle case, anche perché se non ci sarà la gara ad andare a comprare il lievito per fare di nuovo la pizza e la focaccia a casa, quindi meglio fare le provviste prima. Anarita Montanaro, tu sei ovviamente alla guida del Confcommercio di Brindisi, una città che ovviamente del porto, del mare, del turismo ne fa grande tesoro, che ruolo può avere appunto il porto per favorire il turismo? Perché il turismo porta ovviamente gente che gira all'interno degli esercizi commerciali, porta ricchezza anche a tutto l'indotto. Turismo e porto sicuramente sono degli argomenti che vanno a stretto contatto tra di loro, è chiaro che in questo momento di difficoltà, perché tutte le attività come diceva Roberta, hanno riaperto con molta cautela, ricordo quando è stato emesso il protocollo di sicurezza e tutti ancora avevano paura a riaprire, ancora oggi, adesso che stanno salendo il numero dei casi, questa paura tende ad aumentare. Quello che dico è questo però, non bisogna creare dell'allarmismo e fare del terrorismo, ma bisogna cercare di muoversi con attenzione, sottolineando che ci sono le modalità di muoversi in sicurezza e seguendo i giusti protocolli, perché una nuova chiusura potrebbe danneggiare ancora molto di più il settore del commercio, che già ha dei numeri molto bassi, si è abbassato tantissimo il fatturato. Il turismo è importante, il turismo italiano ha il 13% e corrisponde al 13% del FIIL, del fatturato italiano, 4,2 milioni di occupazioni sono proprio dedicate alle attività del turismo, quindi come fare a non pensare che la portualità e anche il turismo vadano a stretto braccio, ma non solo per la città di Brindisi, ma anche per tutte le zone limitrofe, perché non bisogna pensare che il porto di Brindisi, che la portualità porti indotto solo ed unicamente la città di Brindisi, bisogna avere una visione più ampia del commercio, bisogna pensare che altre città limitrofe già molto conosciute, le mete come Ostuni, come Alberobello, Locorotondo, sono mete che comunque sono sempre predilette dai turisti, quindi queste nave da crociera che arrivano, questi mega yacht che arrivano sicuramente devono avere una risposta a livello da tutti i commercianti e da tutti gli imprenditori del luogo, proprio per dare la possibilità alla città di Brindisi come capoluogo e a tutta la provincia di poter riferire e di vivere in tranquillità e in sicurezza questo periodo. Ecco, ma quali scenari futuri tu pensi che ci possano essere per chi decide di fare nuove imprese al sud, in Puglia e in particolare nella città di Brindisi, nel territorio? Quello che ti posso dire è che dai dati che vengono fuori, quello che è emerso è che sicuramente c'è un tipo di turismo diverso, c'è un turismo che va alla ricerca di alcuni elementi di nicchia, evitando luoghi di massa, ma cercando appunto delle novità, va cercando le spiagge incontaminate ed in Puglia ne abbiamo diverse, come voi ben sapete, va cercando i colori dei paesaggi, va cercando l'accoglienza e l'ospitalità, perché noi pugliesi siamo molto bravi ad offrire a tutte le persone che si avvicinano alla Puglia e alla città di Brindisi e alla provincia. Molto bene, Roberta, vediamo che sei abbronzata, quindi sicuramente in questo periodo sei stata a mare più volte e hai girato anche per le spiagge. Purtroppo quando andiamo in spiaggia assistiamo a delle scene anche non molto belle, perché oltre va bene al non rispetto sempre delle norme di distanziamento Covid, purtroppo vediamo anche, viviamo la maleducazione di persone che abbandonano spesso e volentieri mascherine. Ti è mai capitato? Sì, dovunque. Passiamo da casi in cui c'è gente che rispetta la lettera, diciamo tutte le prescrizioni dai gel disinfettanti alle mascherine e altri casi in cui le mascherine sono dovunque, non solo in spiaggia ma sono anche in mare, sono in acqua, il che diventa anche un po', diciamo, non solo quindi pericoloso, perché comunque trovare anche una mascherina in spiaggia diventa un po' preoccupante, ma in realtà ci fa pensare a quello che poi è il problema, l'impatto ambientale quindi che noi abbiamo, quindi questo è un problema reale, è un problema serio. Poi vedo che c'è sempre molta attenzione quindi sulle spiagge, tutti insomma, la capitaneria è sempre quindi presente, quindi effettivamente credo che sia proprio una delle attività che è a cuore quindi del corpo. È chiaro, l'ambiente è uno dei principali compiti del corpo delle capitanerie di Porto, da te che avete anche lanciato, comandante Canumi, avete lanciato poco tempo fa una campagna utilizzando anche un noto attore Enrico Brignano, uno spot, quella che viene chiamata pubblicità progresso, con la quale Brignano in maniera simpatica invita tutti quanti a rispettare il mare perché rispettare il mare significa anche rispettare se stessi. Che tipo di risposta state avendo da questo tipo di campagna, se state anche facendo un'azione sanzionatoria oltre che educativa? Ma l'attività fondamentale del corpo delle capitanerie di Porto è quella di educare. Noi proprio quando siamo costretti ricorriamo a quella che è l'attività sanzionatoria. Fondamentalmente con questa campagna si è voluto divulgare quelle che sono poche, semplici e anche naturalissime regole come per esempio ad operare materiali riciclabili, quando li si devono buttare via, buttarli ovviamente nei centri di raccolta differenziata. Quindi quelle piccole cose che dovrebbero essere nella quotidianità di tutti noi. Purtroppo talvolta capita che sulle spiagge in particolare o anche in mare, perché non ci dimentichiamo che ci sono le barche da di Porto, che si spingono oltre quello che è il sistema della spiaggia e che portano la antropizzazione anche nelle acque dove c'è una biologia molto delicata e un sistema molto delicato. Ecco, il comportamento di talune persone purtroppo mette a repentaglio il sistema mare e il sistema della spiaggia. Allora ecco che le capitanerie, dopo aver cercato di educare, sono costrette a ricondurre all'ordinario, alla tutela ordinaria quelli che sono i comportamenti stravaganti e straordinari, chiamiamoli così. Diciamo comandante che il periodo estivo, mai come quest'anno in cui anche i proprietari delle imbarcazioni da di Porto, dei natanti, sono stati costretti a non poter utilizzare le proprie imbarcazioni fino a poco tempo fa, è un periodo che porta il corpo delle capitanerie ad avere un super lavoro. Avete lanciato anche quest'anno l'operazione Mare Sicuro, operazione Mare Sicuro 2020, perché purtroppo c'è tanta gente che in mare va senza neanche rispettare le minime regole del buonsenso, c'è tanta gente che pensa di andare in mare direttamente dall'autostrada, prende il casello e con la stessa attenzione che pone lungo le strade si avvia anche in navigazione, mettendo a rischio il repentaglio spesso e volentieri, non conoscendo le norme minime marinare, non conoscendo quelle che sono le indicazioni meteo, non leggendo un bollettino meteo ai naviganti, rischia di mettere a repentaglio anche la vita propria e di chi vi imbarca. Io leggevo pochi giorni fa, c'è stato soltanto nel Golfo di Napoli, nelle acque di Capri, a distanza di tre giorni, tre imbarcazioni che sono affondate per incuria e imperizia ovviamente dei comandanti dell'unità, quindi ovviamente le capitanerie che sono intervenute. Che tipo di risultato avete avuto quest'anno dall'operazione Mare Sicuro 2020? Devo dire che i risultati sono incoraggianti, del resto l'attività Mare Sicuro 2020 è un'attività che ormai si protrae, si sviluppa da 30 anni, iniziata con l'attività spiagge libere e sicure, poi piano piano è andata espandendosi e accumulando sempre più interessi e attività sulla spiaggia. Abbiamo avuto un'ottima risposta anche perché devo dire c'è una eccellente collaborazione da parte dell'utenza che quindi è pronta a segnalare ai nostri numeri al 1530 e ai numeri delle capitanerie a carattere locale quelli che sono i comportamenti che devono essere diciamo così corretti. Ma mi piace ricordare che il corpo delle capitanerie e gli utenti non sono soli nel portare avanti queste attività di educazione. Mi piace ricordare che ci sono anche associazioni come per esempio la Lega Navale Italiana che fa un'attività di uturna, la si vede durante l'estate ma loro lavorano moltissimo anche durante l'inverno con l'educazione dei ragazzini, anche nelle scuole, anche nei confronti dei portatori di disabilità che vengono avvicinati al mare quindi soprattutto l'attività nei confronti dei ragazzini perché educare un ragazzino oggi significa avere un adulto educato domani e migliorare quello che è il livello culturale di tutta una nazione. Quindi il corpo delle capitanerie ha il piacere diciamo di coordinare e svolgere certamente in prima linea un'attività che con il passare del tempo, come ci ha dato la risposta quest'anno, la mare sicuro, cresce e rende sempre più consapevoli gli italiani. Questo è verissimo. La Lega Navale poi avremo occasione in un'altra trasmissione di fare un approfondimento anche sulle attività che è la Lega Navale Italiana di cui c'è stato pochi giorni fa anche l'avvicendamento alla Presidenza Nazionale perché ricordiamo che la Presidenza Nazionale della Lega Navale spetta ovviamente da sempre con un decreto del Presidente della Repubblica a un ammiraglio della Marina Militare che è andato in pensione in crescenza da poco tempo. C'è un altro aspetto molto importante Roberta, noi abbiamo sempre pensato quando tocchiamo il tema del turismo che l'Italia sia una realtà che si vende da sola perché abbiamo detto prima 8 mila chilometri di costa, siamo la nazione con un patrimonio artistico culturale più ampio rispetto a tutti gli altri ma purtroppo paghiamo lo scotto di non saper vendere il prodotto Italia. Noi se facciamo un giro in altri paesi vediamo dove riescono a fare dei musei anche di cose veramente senza interesse. Noi qui abbiamo un bellissimo tavolino davanti a noi, molto bello, lo abbiamo apprezzato, punto. Possiamo stati in un altro paese magari avrebbero organizzato un museo, mostre per spiegare, per raccontare, per cercare tutto ciò che c'è dietro questo tavolino. Qui dovremmo cercare. Roberta penso che sia arrivato anche il momento di iniziare a capire che dobbiamo avere una visione diversa, cioè dobbiamo diventare imprenditori di noi stessi e abbandonare l'idea che l'Italia perché bella si possa vendere da sola. La parola d'ordine è investimenti, gli investimenti devono essere in maniera molto generalizzata dai governi nazionali, centrali, le regioni, le istituzioni in generale, ma investimenti non solo in infrastrutture, ne parlava prima il Presidente, ma investimenti anche nelle realtà, nei vari territori, ma soprattutto anche nel settore della scuola. È stato molto interessante il passaggio del comandante della Capitaneria. Io lo incontro sempre nelle giornate del mare, quindi il lavoro della formazione di giovani, quindi investimenti in cultura, investimenti in capitale, valorizzazione quindi dei talenti e le infrastrutture. Quindi l'Italia, ecco, il Covid a me piace vederlo un po' come ci diceva Einstein, la crisi diventa un'opportunità, dobbiamo provare a fare in modo che questa crisi rappresenti per noi una spinta, sia un volano per cercare un modo alternativo e sicuramente forse di qualità e molto più sostenibile per vendere bene il nostro paese, ma venderlo appunto in maniera seria e con grande qualità e mettendoci il cuore, perché noi siamo appunto il bel paese e dobbiamo metterci davvero il cuore in quello che facciamo. A me viene da fare perché parlavi di investimenti, di aiuti e di imprese. Io ora vorrei fare la stessa domanda un pochino a tutti i nostri ospiti. Parto da De Palma. De Palma, allora ci sono stati ovviamente la crisi Covid-19, ha messo in ginocchio realmente l'economia del paese. Ci sono stati interventi, lo Stato ha messo in campo tutta una serie di interventi per garantire la ripresa e per garantire anche liquidità alle imprese. Ti chiedo, quello che è stato messo in campo dal governo centrale ma poi anche dal governo locale, è risolutivo e sufficiente per aiutare il settore, in particolare il settore del turismo, a ripartire? È una bella domanda quella che mi fai. Solamente ai posteri l'ardua sentenza, sicuramente c'è stata messa la buona volontà, sicuramente c'è stata la reattività, c'è da considerare che rispetto ad una condizione nella quale ci siamo trovati non c'era una giurisprudenza come si suol dire, non c'era un'esperienza che poteva consentire ai nostri governanti di reagire nel modo più preciso possibile. C'è stato il polso fermo, c'è stata una visione, si è scelta una rotta e nella tempesta si è continuato ad andare su quella rotta con l'idea di poter uscire dalla tempesta. Metaforizzando, oggi si può dire che forse è stata la strada giusta, ci sono state delle lamentele rispetto ai soldi che non arrivavano, però c'era anche da rispondere a molti imprenditori che i soldi non sono arrivati a tutti, ma sono arrivati a coloro che erano sani, ma non a coloro che avevano già dei problemi di bilancio, perché quelli che si lamentavano erano perché avevano problemi di bilancio, perché i soldi non venivano regalati. Quindi erano in crisi pre-Covid. Venivano prestati comunque ad aziende che erano sane in fase di pre-Covid, non erano regalati, erano prestati in questa condizione. Quindi nel contesto generale anche la Regione ha reagito bene, la Regione ha reagito con delle misure importanti, con delle misure anche di spinta all'innovazione, diciamo riprendendo delle misure precedenti e riadattandole alla situazione contingente per dare una nuova propulsione al sistema industriale. Diciamo che la Regione Puglia, da quello che sono le mie informazioni, è quella che ha reagito meglio in ambito locale. Il Governo nazionale secondo me ha reagito nel modo migliore di come poteva reagire, anche in questo momento il confronto con i nostri cugini europei, con i nostri fratelli europei, ci dice che nella condizione generale siamo quella nazione sul quale oggi gli economisti o gli studiosi stanno guardando con attenzione perché il modello che si è messo in atto è stato forse quello migliore, quello da replicare in una condizione del genere. Oggi nel contesto posso dire personalmente da imprenditore che io mi sono sentito tutelato dal sistema governativo, da imprenditore. Non mi sono sentito lasciato solo, io come imprenditore tutto quello che mi era stato messo a disposizione l'ho chiesto nel giro di pochi giorni, l'ho ottenuto, perché la mia è un'azienda sana fortunatamente, però naturalmente sono io che mi devo rimboccare le maniche, sono io che devo mettermi pancia a terra come si suol dire e cercare di venire fuori da questa situazione. Quindi non puoi chiedere alla mamma Stato di darti tutto quello che non hai fatto, è il rischio di impresa, c'è anche il famoso rischio di impresa e in una condizione di questo genere un po' di rischio di impresa ce lo devi mettere come è un alluvione, come un terremoto. Certo ci sono le assicurazioni, ci sono le tutele, tutto quello che vuoi, però ti devi mettere pancia a terra, devi innovare, devi guardare di nuovo il mercato, devi adattarti. Certo il modello piccole e medie imprese è più avvantaggiato da questo punto di vista perché è più elastico, è più facilmente malleabile rispetto alle condizioni di difficoltà. Da quello che sono le mie informazioni, i miei dati, la grande impresa a livello pugliese sta soffrendo e non vede ancora una condizione di ripresa e questo a livello macroeconomico è una condizione di pericolo per il sistema perché comunque volente o non volente la grande impresa traina un canale economico non indifferente sul quale poi c'è un indotto, c'è una condizione generale. Presidente Patroni Griffi, tu hai a che fare anche ovviamente per il tuo incarico con tante grandi imprese. La stessa domanda che ho fatto a De Palma la faccio anche a te, l'iniziativa messa in campo dal governo nazionale e locale per aiutare le imprese, il rilancio dell'economia, l'avere la liquidità perché ricordiamoci che il grande problema sono stati i ritardi tanto per la cassa integrazione, per avere per i lavoratori la cassa integrazione, quanto per la liquidità perché le banche spesso e volentieri hanno fatto, usiamo un termine calcistico un po' di melina, forse perché volevano anche lo scudo penale perché sapete benissimo che il direttore di banca, colui che istruiva, poi poteva essere anche chiamato in corresponsabilità in caso di banca rotta e quindi ci pensava un pochino due o tre volte prima di concedere i contributi che sappiamo erano o completi o comunque garantiti dallo Stato fino al 90% e poi col 10% aggiuntivo garantito ovviamente dal sistema dei confidi. Patroni Griffi, cosa ne pensi? Io penso che noi abbiamo una grande occasione, cioè le crisi sono sempre il momento in cui ci sono anche delle grandi occasioni, abbiamo l'occasione di ripensare il paese, un paese che non cresce da 10 anni, non è che è arrivato il Covid ma su un paese malato, non era un paese in espansione, era un paese che cresceva dello 0,5%, l'obiettivo più ambizioso dell'1%, il che significa che era un paese in stagnazione. E allora bisogna rimeditare rimeditare le ragioni di questa stagnazione e bisogna attuare un percorso a forbice, traguardare ciò che c'è, cioè il soccorso, bisogna traguardare il sistema imprenditoriale oltre lo steccato della pandemia per conservarlo il più possibile integro, quindi le sovvenzioni, le integrazioni, anche noi come Porto, io ho preso 10 milioni del mio avanzo disponibile, quasi tutto quello che avevo e l'ho messo a disposizione della portualità per i concessionari, per le imprese portuali che sono in difficoltà, perché devono superare il periodo. Ma superato il periodo dobbiamo agire sul motore che era malato, un motore ingrippato, un paese che abbiamo visto ultimamente, la vicenda del fratino è sintomatica di un paese malato. Può un uccello fratino bloccare il collegamento fra il nord e il sud del paese perché la ferrovia lo va a disturbare? No, giustamente è intervenuto il registratore della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dice guardate che di fronte a ci sono interessi che vanno ovviamente resi compatibili, ma c'è un interesse che è quello della crescita del divario del gap fra il nord e il sud che sicuramente è più importante del piccolo disturbo del fratino che magari va a identificare in un'altra parte, non succede niente. In un'intervista che ti ho fatto successivamente, non te l'ho ancora raccontato, ho avuto delle lamentele proprio su questa dichiarazione che mi ha detto. Sì, l'ho capito, stanno gli amanti del fratino, lo metto in conto, però poi non ci si può lamentare della situazione del meridione che non cresce, questo meridione che non si infrastruttura, questa economia meridionale. Se noi siamo isolati da tutto, come è possibile pensare allo sviluppo della logistica quando noi su un lassi orizzontali e verticali siamo isolati dal terreno perché non c'è un collegamento ferroviario ancora oggi che ci collega fra l'ex capitale del regno delle due Sicilie, Napoli e le Puglie, è possibile una cosa del genere e sull'Adriatico che non è manco riconosciuto come rete TNT che è infatti anche abbastanza grave anche politicamente, è possibile che oggi si vada ancora con un binario singolo e anche la capacità dei porti, io vedo gli sforzi che fa il mio povero collega Prete a portato dei turchi, ma comunque l'intermodalità non si può sviluppare più di tanto perché più di 20 corsi in più sulla linea adriatica non sono possibili, c'è uno strozzamento nella cosa, c'è un problema proprio di insufficienza dell'infrastruttura e quindi io ritengo che nel futuro noi dobbiamo pensare come creare l'ambiente più opportuno per la crescita delle imprese che sono state fortemente penalizzate, ma lo dico da componente da presidente dei provvibili di Confindustria, lo dico da presidente dell'autorità portuale, lo dico da uno che ha presieduto moltissime società, le imprese specialmente nel meridione fanno il triplo, hanno il triplo delle difficoltà delle imprese del nord e là c'è un sistema che funziona, anche una burocrazia che in qualche misura comprende le esigenze delle imprese, quindi il famoso problema delle asimmetrie. Le imprese nel meridione sono poco comprese e quindi hanno difficoltà, basti pensare le tari, il tema delle ZES che effettivamente sono una potenzialità ma vanno riempite di contenuti, cioè la ZES che è il cui unico vantaggio è il credito di imposta. Non va lontano, la ZES in cui al credito di imposta vi è una diversa disciplina urbanistica, una diversa sistema di semplificazioni amministrative, un sistema di incentivi anche sulle imposte locali, il famoso kit localizzativo diventa fortemente attrattiva. Io oggi do una notizia, perché siamo qua, anche gli amici giornalisti, io ho convocato il comitato di indirizzo della ZES, manca una nomina, fa niente, secondo me c'è la maggioranza dei membri, c'è un membro che è stato nominato a fine luglio, che peraltro è la Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Brindisi, dal MIT mi manca la nomina di competenza Presidente del Consiglio, però la maggior parte ci sono, io il 16 settembre con quel comitato di indirizzo. Quindi fai una forzatura vera e propria? Non è che faccio una forzatura, scusate, delle ZES c'è una parte buona, c'è una parte che è assolutamente attrattiva, che sono le zone franche. Queste zone franche possono essere istituite entro il 31 dicembre 2020, cioè abbiamo forse meno di sei mesi per istituirle. Vengono istituite in base a una delibera di perimetrazione fatta dal comitato di indirizzo e poi di intesa con l'Agenzia delle Dogane. Come posso io, se non si riunisce questa cosa, riuscire a incrociare? Allora io faccio una forzatura, non mi importa, probabilmente non so se sia una forzatura. Oggi mi sono confrontato con il Presidente della Regione Molise e ho detto io lo faccio, perché è il componente del comitato di gestione. Io lo faccio perché ho la necessità di proporre quattro zone franche, una per il Molise, per questo che è una zona interregionale in prossimità del porto di Termini e tre zone franche in prossimità delle tre disciolte autorità portuali che sono confluite nell'autorità di sistema. Quindi ho iniziato da sud, chiaramente il tema della zona franca di Brindisi, è un problema della Regione, Brindisi e i dati economici sono i più drammatici di tutta la Puglia, quindi vi è la necessità di creare degli... Qualcosa che sia attrattivo. Beh certo, e deve essere industriale, perché se tu vuoi decarbonizzare e vuoi sostituire un'industria, la puoi sostituire solo con un'altra industria, non è che sostituisci l'industria con il turismo. L'industria può essere sostituita cercando di avere un saldo zero sotto il livello occupazionale solo con altre industrie e la grande industria può essere sostituita solo da grande industria, cioè sono elementi basilari di economia, quindi io ho la necessità, come le ZE sono state create per attirare la grande industria, ho la necessità di partire da Brindisi, mi sono confrontato ovviamente con l'eccellente presidente dell'ASI, Bianco, dicendo mettiti a lavorare perché devi avere una proposta a settembre su cui iniziare a lavorare dove perimetrare la zona franca di Brindisi e posso anche anticipare che Capo Bianco io lo proporrò come ZE, come zona franca per renderlo ancora più attrattivo, perché è l'area più attrattiva che ho nel porto. Allora noi faremo una cosa, prendiamo l'impegno con te, faremo una trasmissione ad hoc sul tema della ZES appena tu sarai pronto, in modo che approfonderemo bene questo tema. Assolutamente, il tema delle zone franca, quindi concludo il discorso giustamente con le zone franca di Bari, però devo dire a Bari si muovono, il consorzio ASI, la regione, la provincia, si sono già, c'è già un'idea che a settembre presenteremo al direttore Minenna dell'Agenzia delle Dogane. Ho anche spronato il commissario di Manfredonia perché anche là c'è un territorio in sofferenza nella Capitanata, di fare altrettanto, di arrivare con delle proposte, perché se poi la data viene traguardata senza avere un progetto... Abbiamo perso una possibilità. Eh sì, ma con chi ce la prendiamo? Con il governo, con l'Unione Europea, con... Torneremo su questo tema. Comandante Canu, da uomo delle istituzioni, da militare, io non posso chiedere un giudizio sulle misure messe in campo ovviamente dal governo, tanto nazionale quanto quello locale, perché giustamente bisogna rispettare anche i ruoli di ognuno, però tu hai contatti ovviamente con tantissimi operatori. Qual è la sensazione? Come vivono gli operatori del settore della nautica a questo tipo di momento? Sono soddisfatti o li vedi ancora in difficoltà? No, c'è una grande preoccupazione, profonda preoccupazione e il futuro in questo momento è un grande punto interrogativo. Per questo le istituzioni cercano di favorire, cercano di produrre quello che potrebbe essere un terreno fertile per le iniziative e per lo sviluppo delle attività. Ma è una cosa che riguarda un po' tutte quante le istituzioni dello Stato presenti sul territorio. Noi come Capitaneria di Porto ovviamente ci impegniamo in quelle che sono le attività produttive sul mare. A questo proposito mi piace ricordare noi stiamo parlando di porto, porti, abbiamo il presidente dell'autorità di sistema portuale, cioè oggi come oggi il concetto di porto è stato superato. Siamo arrivati al concetto di sistema portuale dove ci sono delle specializzazioni tra i vari porti di un unico sistema, dove ci sono infrastrutture, dove ci sono strade, ferrovie, porti con natura cantieristica, porti con natura di trasporto passeggeri, porti con natura di trasporto delle merci. Tutto questo sistema insieme è in grado di sviluppare una resilienza, quindi una resistenza alla difficoltà che il singolo porto non è in grado di portare avanti. E la stessa cosa dal punto che porta avanti il presidente dell'autorità di sistema portuale la porta avanti il corpo delle capitanerie insediato sul territorio facendo sì che ci sia una guida unica nel nostro caso che fa capo al direttore marittimo, quindi alla regione geografica, alla direzione marittima della Puglia che è Bari per noi, che ai singoli comandanti dei singoli porti dà delle direttive e dà degli orientamenti in maniera tale da armonizzare e mai mettere in concorrenza quelle che sono le attività delle singole realtà portuali. Molto bene. Anarita Montanaro, stessa domanda, qual è la situazione la posizione del mondo del commercio per quanto riguarda le misure messe in campo dal governo centrale e dal governo locale? Serve ancora qualcosa? Sono soddisfatti? Gridano bisogno di aiuto? Qual è la situazione reale? La situazione è questa, sin dall'inizio quello che abbiamo chiesto come Confocommercio Brindisi è stato quello di avere un tavolo permanente di comunicazione. C'è stato un tavolo di comunicazione, c'è stata una comunicazione continua anche con i nostri associati, abbiamo avuto lo stesso tipo di atteggiamento, quindi sia a livello nazionale che a livello regionale e anche a livello comunale c'è stato questo tipo di dialogo ed è un dialogo che continuiamo a chiedere e continuiamo a dire che ci deve essere a livello territoriale per la città di Brindisi e per la provincia un tavolo permanente di dialogo. Quello che gli imprenditori, lasciatemi dire, e anche i professionisti, i semplici professionisti che hanno sofferto, è stato proprio questa eccessiva burocrazia in alcuni casi, questa lentezza sulle procedure e quello che chiedevano e che chiedono tuttora come è stato anche dichiarato dal Presidente Sangali è quello che le tasse in qualche modo cerchino di agevolare chi già si trova in situazione difficile e come diceva anche Ugo, chiaramente tutta questa situazione di Covid è una situazione che ha portato degli scompensi accelerando un processo che era già iniziato precedentemente. Quindi quello che chiediamo è che ci sia ancora un maggior supporto da questo punto di vista e che ci sia sempre comunque una comunicazione. Con Confidi Brindisi è riuscita anche con ConfCommercio a muoversi anche sul discorso dei finanziamenti, siamo riusciti a supportare sia i nostri associati che chi si volesse avvicinare al mondo di ConfCommercio Brindisi. Proprio con Confidi che era comunque un Confidi Puglia ma più vicino, lasciatemi dire, alla realtà di Taranto. Adesso siamo anche noi in Confidi quindi anche in questo cerchiamo di sopportare nel futuro i nostri associati e chi si volesse avvicinare a noi. Molto bene, Roberta penso che siamo riusciti a fare una chiacchierata, è volata un'ora di trasmissione, il messaggio che è uscito un pochino da tutti gli interventi è un messaggio penso estremamente positivo perché tutti guardano con attenzione verso ciò che sarà, è chiaro che chiedono ancora aiuto, chiedono ancora che lo Stato sia vicino ma sono pronti per ripartire tutte le imprese, giusto? Sì, sono pronte per ripartire e penso che questo debba essere un momento fondamentale. Credo che anche a livello un po' sia nazionale quindi che regionale le misure in campo ci sono, stanno continuando, abbiamo qualche giorno fa il decreto agosto che prevede tutta una serie di misure a livello nazionale che sicuramente dovranno essere incrementate perché il decreto legge è in fase quindi di conversione. Prima facevamo riferimento anche alla questione del lavoro, parlavate di cassa integrazione, c'è in campo anche una riforma, quindi è stata nominata una commissione nel mese di luglio, una sottocommissione presso il Ministero del Lavoro dove ci sono diversi docenti universitari che stanno pensando a come intervenire per strutturare quindi il sistema, o meglio per sistemare il nostro sistema perché in realtà noi non abbiamo avuto grandissime riforme sugli ammortizzatori sociali, Jobs Act è stata una riforma che sicuramente è stata importante ma il Covid ci ha messo dinanzi alla necessità di intervenire in maniera significativa. La più grande riforma che noi abbiamo avuto del mercato del lavoro è la riforma Biagi, quindi è passato già 2003-2004. Il mondo del lavoro è cambiato in maniera significativa, quindi sicuramente le misure da mettere in campo sono altre e l'augurio che vogliamo farci è che il tavolo sia anche in quel caso partecipato da tutti gli stakeholder, che ci siano tutte le realtà che in questo momento possano fare sistema, entrare proprio in una visione quindi sistemica. Credo che questo sia un punto di inizio ma sia anche un punto quindi di arrivo che possa portarci nuova linfa. Questo è giusto anche perché dobbiamo ricordarci che dovremmo affrontare, abituarci a una nuova normalità, non potrà più esserci ciò a cui eravamo abituati prima ma si dovrà giocare la battaglia con nuove regole, chiamiamole delle regole d'ingaggio comandante, me lo passi il termine, in termine militaresco ma gioco forza, bisognerà adattarsi a quelle che saranno le regole del futuro, sia all'interno delle aziende con le norme di distanziamento che comunque diventeranno sempre oramai più comuni e più frequenti da rispettare, quanto ovviamente con l'approccio anche a quello del mondo del lavoro. Permettetemi in conclusione di ringraziare nuovamente i nostri ospiti, ringrazio di nuovo Cesare De Palma per essere stato con noi, ringrazio Ugo Patroni Griffi, ringrazio Giovanni Canu, grazie anche ad Anna Rita Montanaro, ringrazio i nostri ascoltatori, permettetemi di ringraziare anche non l'ho fatto in premessa, il nostro media partner, il canale 85, Antenna Sud e il settimanale Lo Ionio per aver partecipato e contribuito alla riuscita di questa iniziativa. Arrivederci a tutti.